Commissione di controllo, quali sono i punti sui quali si svilupperà la vostra attività in questa consigliatura? È l'unica presidenza, è l'unica commissione che spetta alle opposizioni, quindi è toccata la Lega Nord, è toccata il sottoscritto, proprio dalla Commissione Controllo e Garanzia controlleremo e valuteremo tutti gli atti possibili e immaginari per far valere la nostra forza di opposizione come primo partito in Consiglio regionale. Come valutate l'ipotesi del Presidente Gianni eventualmente di una presidenza da alternare con l'altra forza di opposizione? Io direi che tutto può essere rivalutato a metà legislatura, quindi tra 30 mesi. Avete in particolare già dei documenti in testa? No, per il momento no, anche perché c'è prima la necessità di riunire la Commissione per le questioni di bilancio che andranno poi alla Corte dei Conti martedì, ripeto, tutti gli atti più importanti passeranno dalla Commissione di Controllo e da lì di volta a volta controlleremo e valuteremo e ci faremo sentire se necessario. Grazie.